Noi oggi ci troviamo qui per un compito ben preciso, noi oggi siamo qui per collaudare, collaudare nel senso che è nostra intenzione trasformare il vecchio mulino dell'architetto Fioravanti in un night, in un prossimo futuro. Quindi voi siete un po' come le cavie, oggi è il primo esperimento in senso assoluto, voi dovreste trasformarvi così in clienti di un night, le signorine in, non so, direi in conigliette, come usa un po' perché è appunto nostra intenzione se l'esperimento riesce, se l'esperimento riesce e trasformare questo locale in un night e questa serata è una per tante altre serate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.